Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Contro di lui all'angolo rosso 24 incontri disputati 16 vittorie 6 sconfitte 2 pari per lui. Campione italiano WMC in carica categoria 61 kg e 200 per il team Never Give Up da Roma Italia. Flavio Colton Boy Ventricini! Grazie a tutti. 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 Fuori i secondi. Seconds out. E' la seconda ripresa. Round two. Grazie a tutti. 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 Fuori i secondi. Seconds out. E' la terza ed ultima ripresa. This is the last round. Grazie a tutti. Gruzza sti movimenti. Grazie a tutti. 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 Ed è la fine dell'incontro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.